Il dialogo con gli altri artisti e artiste è importantissimo per me perché ci si aiuta, ci si confida, si mostrano i propri lavori, si vede cosa funziona, cosa non funziona, ci si confronta sostanzialmente ed è una cosa che per me è fondamentale. Cerco sempre infatti di coinvolgere amici e artisti quando faccio un nuovo lavoro per avere una loro opinione, per capire se il lavoro funziona, se posso migliorarlo e quindi sì, assolutamente importante.